Grande attesa per la festa della montagna, nel popoloso comune di Scoppito ormai questa è una tradizione consolidata, organizzata dai ragazzi della consulta giovanile di Scoppito e dalla proloco di Scoppito, sempre attivi verso questo tipo di iniziative, rivolto non solo ai giovani, a tutti. L'evento si terrà dal 19 al 21 luglio in località Agli Puzzi. Ci saranno ovviamente dei punti di ristoro messi a disposizione dallo staff. Il tutto sarà lietato dalla musica degli amici di TNL e da altri gruppi locali, ci saranno anche Lorenzo Baglioni, Jacopo Stick, fino a notte inoltrata ci si potrà divertire con la musica delle indisponenti. Sarà possibile pernottare con le proprie tende nella magnifica cornice naturalistica che offre Monte Calvo, un evento molto atteso che raccoglie sempre centinaia di persone a Scoppito.